Come abbiamo visto anche in questo caso è centrale la conoscenza, la consapevolezza anche delle meteo, delle condizioni meteo, delle previsioni meteo. In questi giorni continuano a piovere, le temperature sicuramente non sono quelle di un maggio primaverile che si avvia verso l'estate. Addirittura il Comune dell'Aquila ha previsto lo slittamento della stoppa ai riscaldamenti, si potrà tenere acceso l'impianto di riscaldamento fino al 20 maggio. Ma come andrà, come proseguiranno le cose? Io lo chiedo naturalmente come sempre al nostro esperto meteo Giovanni De Palma, che tempo farà? Io nel titolo ho messo Piove e Pioverà, è così Giovanni, me lo confermi? Eh sì Marina, buongiorno, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. La nostra penisola continua ad essere interessata da un vortice depressionario, lo possiamo vedere da queste immagini dal satellite. Un vortice depressionario centrato sulle regioni meridionali che continua a convogliare corpi nuvolosi proprio sulla nostra regione e quindi ci sono precipitazioni diffuse più intense sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante atriatico ma comunque i fenomeni interessano un po' tutto il territorio regionale. In queste ultime ore sono giunti i venti dai quadranti settentrionali che a partire da stasera favoriranno anche un ulteriore calo delle temperature. Se da un lato ci saranno delle schiarite temporanee nel Pescarese e nel Chietino, soprattutto lungo la fascia costiera, continuerà a manifestarsi un'instabilità e assisteremo a un ulteriore calo delle temperature. Ma le precipitazioni torneranno ad intensificarsi. Si è notata che nella mattinata di martedì e ce lo dimostra anche questa previsione, questa mappa relativa alle precipitazioni previste nel corso della giornata di martedì, come potete vedere la nostra regione risulterà ancora interessata da precipitazioni diffuse anche persistenti sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante atriatico ma anche lungo la fascia costiera. A causa della generale diminuzione delle temperature prevista a partire dalla prossima ora, la quota neve si abbasserà intorno ai 1.200 e 1.400 metri. Insomma una situazione non tipica di questo mese, ma è pur vero che a febbraio comunque non abbiamo avuto un tempo invernale, anzi le temperature sono state ben al di sopra delle medie stagionali. Insomma è come se la natura vorreste riprendersi quello che non ci ha dato a livello invernale nel mese di febbraio. Non migliorerà, anzi Marina ce l'ha a segnalare, poi anche se ci saranno delle scherite nella giornata di giovedì, tra mercoledì e giovedì, è probabile il ritorno delle perturbazioni atlantiche a partire dal fine settimana. Ne riparliamo ovviamente nei prossimi aggiornamenti. È tutto a te la linea. Grazie, grazie a Giovanni De Palma, come dicevo appunto miglioramento che ancora si fa attendere, sarà proprio così che l'inverno è praticamente slittato di un mese.